Calmo che godrai Ciao, grazie Ciao Radio CRT Radio CRT Working on a Dream E abbiamo ascoltato Ultimo che ci fa sempre piacere Ascoltare la sua voce Le sue canzoni struggenti Siamo quasi in chiusura Di questa giornata di martedì Ma torneremo sicuramente Venerdì con un ospite importantissimo Torniamo a parlare Di ultime uscite musicali Torna anche lei, Giordana Angi Che pubblica il suo nuovo singolo Passeggero Disponibile appunto su tutte le piattaforme Digitale a partire da venerdì 26 novembre La traccia stranamente Inusualmente per quest'artista È dal sapore latino Il primo assaggio del nuovo progetto musicale A cui la cantautrice sta lavorando E appunto rappresenta un po' Un cambio di identità e di sonorità Per Giordana Passeggero è l'essere umano Che vive Scorre nel suo spazio E non ha nulla Se non la voglia Di andare Non è interessato alla materia Lui cerca emozioni E ne fa stoffa per l'anima Racconta appunto Giordana Passeggero Scorre Non si ferma Eppure in questa canzone C'è qualcosa che gli dà La voglia Di fermarsi Passeggero Sa di non essere eterno Di essere di passaggio E per questo Vive di paesaggi Per sentirsi Vivo Io vi lascio Proprio in compagnia Di Giordana E vi do appuntamento A venerdì Qui con l'altra puntata Di Apriti Cielo Oggi pomeriggio Non perdete Il ritorno Di culo e camicia Di Davide Iannuzzo Io vi saluto E vi auguro Una buona giornata Giordana Angi Con Passeggero Ero neve in mezzo al cielo Uno stato passeggero Ora sono altro Acqua dentro gli occhi tuoi Sono viva e mi distratto Posso diventare fango Sono in viaggio Non rimango Vado oltre passo E ci casco Sbaglio ad ogni passo Non rimane mai niente passo Tutto il tempo Sono un passeggero Non rimango Sono un passeggero Scorro come l'acqua Di un fiume Ma se mi fermassi Ci annegherei Scorro non c'è niente Che mi fa stare Meglio di così Ma stavolta Non lo sento Quella nostalgia Di vento Questi piedi Come radici Mi terrebbero qui Passo passo Di un attimo una vita Passo passo Quando non è finita Passo Tu non farmi passare Ma non puoi restare acqua Come l'anima di carta E così mi sono persa Si ferma nel tuo letto Il mio viaggio Sbaglio ad ogni passo Non rimane mai niente passo Tutto il tempo Sono un passeggero Non rimango Sono un passeggero Scorro come l'acqua Di un fiume Ma se mi fermassi Ci annegherei Scorro non c'è niente Che mi fa stare Meglio di così Ma stavolta Non lo sento Quella nostalgia Di vento Questi piedi Come radici Mi terrebbero qui Passo passo Di un attimo una vita Passo passo Quando non è finita Passo Tu non farmi passare Io sono passeggero E non vedo più la riva Io sono passeggero Io sono viva Scorro come l'acqua Di un fiume Ma se mi fermassi Ci annegherei Scorro non c'è niente Che mi fa stare Meglio di così Ma stavolta Non lo sento Quella nostalgia Di vento Questi piedi Come radici Mi terrebbero E io morirò così Io morirò ballando Io morirò così Io morirò amando Io morirò così Io morirò sbagliando Con i sentimenti E io morirò così Io morirò ballando Io morirò così Io morirò amando Io morirò così Io morirò sbagliando Con i sentimenti Io sono passeggero E non vedo più la riva Io sono passeggero, io sono viva Il programma è stato offerto da Amore, lo sapevo che questa casa era troppo grande per noi due 300 metri quadrati sono impossibili da riscaldare E soprattutto una spesa troppo grande da gestire Cambiamo casa, ce ne andiamo io e te, due cuori e una capanna Cara, lo sai che non sono ancora pronto per questo Piuttosto sai cosa ho letto su Facebook? Che con il biotermocamino Helios Multicombustibile a legna, pellet e nocciolino Possiamo riscaldare fino a 300 metri quadri Ed avere l'acqua calda sanitaria fino al giorno dopo Quindi mi stai dicendo che il sogno di vivere in una casa accogliente, calda E soprattutto ecologica potrebbe avverarsi Però se poi lo compriamo e non siamo soddisfatti Helios ha la soluzione anche a questo Offre infatti la garanzia 100 giorni soddisfatti o rimborsati E in più possiamo godere delle interazioni fiscali previste Ma poi due cuori e la capanna? Io scappo da Helios Helios Tecnologie lo trovi a Flumeri presso la zona industriale Visita il sito www.heliostecnologie.it O seguici su Facebook e Instagram Per tutte le info chiamalo 0825 44 3004 Avete ascoltato Apriti cielo? Un programma ideato e condotto da Eddie De Michele Per chi non ha bandiera Per chi non ha preghiera Radio CRT Working on a Dream Per chi non ha preghiera Per chi non ha preghiera